ciao a tutti video breve 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 solo per dirvi che anch'io sono approdato su 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 ma non sarò mai capace di pronunciarlo però ho letto che si legge su e quindi fate le vostre deduzioni cos'è su allora ve lo leggo per evitare di dire stupidagini guadagnare condividendo foto e link ora si può fare con il nuovo social network di nome su le impressioni sono contrastanti tra chi lo definisce il sostituto di facebook grazie alla possibilità di guadagnare postando foto link è stato e chi pensa che non arriverà a fine anno la piattaforma di su si presenta come facebook ma molte meno funzionalità rispetto al noto social di mark zuckerberg al momento non si possono postare video creare pagine come avviene per facebook ma anche vero che le vite si può postare semplicemente il link iniziare ad usare su è molto facile basta accedervi registrarsi confermando la propria email dare conferma al pop up che appare successivamente iniziare caricando la propria immagine iniziando a guadagnare immediatamente ricordarsi di digitare sul tasto bank per poter iniziare a monetizzare i propri post la cosa positiva è anche la possibilità di controllare in tempo reale quante sono le visualizzazioni domanda è possibile arricchirsi il sistema paga in base al numero degli amici e dei followers più più sono più in teoria si dovrebbe guadagnare ma il sistema piramide di rizzo consente guadagni minimi e arricchirsi sembra poco credibile la monetizzazione viene così distribuita 10 per cento scusate allergia in 10 per cento va su il 45 per cento all'utente restante 45 per cento viene distribuito a catena gli amici più importanti fino a quelli meno in un sistema scalare non si possono passare più di 24 post 8 contenuti di condivisione al giorno avere più di 5000 amici e seguirne più di 1000 raggiungimento di 100 dollari americani è possibile inviare la richiesta di pagamento preso da epoch times punto it n2 news su guadagnare postando il proprio stato 238 punto html vi metto tutto qui sotto quindi cosa dire vi lascio anche il link al mio profilo di su così se volete potete chiedermi amicizia ricordatevi che i followers sono solo mille gli amici 5000 abbiamo già detto e nulla scusate anche qui per il video fatto di fretta però dai almeno ho fatto la barba c'è a lui un abbraccio e un bacio a tutti ciao